In A15 a causa di un incidente tra mezzi pesanti, chiuso il tratto tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In A1 per traffico intenso ci sono code a tratti in direzione Bologna tra Valdarno e il Bivio per la variante di Valico e tra Fabbro e Monte San Savino. Sulla Fibili per intervento di riprissino frana chiusura dell'uscita verso via Quaglierini in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. La statale 64 Porrettana è chiusa tra Pavana e Ponte della Venturina a causa di una frana. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!